E' un momento di prevenzione civile in cui gli ordini mettono a disposizione della cittadinanza tutte le conoscenze che loro possiedono per informarli intanto sugli strumenti che esistono, siamo già in campo tipo il sisma bonus o l'eco bonus e dopo offriranno anche gratuitamente un sopralluogo gratuito appunto su gli immobili, bisogna compilare una breve scheda, sarà importante anche per gli utenti conoscere almeno seppur sommariamente lo stato o le condizioni statiche dei propri immobili. Come si articolera questa giornata a Cosenza dove sarete presenti? Noi saremmo presenti in sei piazze nella provincia di Cosenza, siamo a Cosenza, a Rende, a Diamante, a Damantea, a Corigliano, Rossano e a Castrovillari. Troverete in queste sei piazze 60 tecnici, è un modo nuovo di approcciarsi a queste tematiche per renderle semplici anche facilmente comprensibili a chi magari non è esperto come noi. Salvatore Bruno per la CNews24